Assembliamo un nuovo PC da gaming Come avete visto dall'introduzione, nel video di oggi andiamo ad assemblare un nuovo PC da gaming All'interno di un case della Deepcool, il CK560 e un dissipatore ad aria, sempre della Deepcool Un AK400, infatti ringrazio sia pcgaming.it che Deepcool per averci inviato questi prodotti da poter testare Qui sul canale per voi, oggi andiamo ad assemblare un PC proprio con questi prodotti Non voglio dilungarmi oltre, quindi mettiamoci subito al lavoro Grazie a tutti 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 Posso portarvela su questo canale sia del dissipatore sia del case ma oggi voglio terminare così solamente con l'assemblaggio e il timelapse di quello che avete visto. Quindi se vi piace questa tipologia di video mettete tantissimi piace, iscrivetevi al canale, fatemelo sapere qua sotto nei commenti con un commento, con un apprezzamento. Se vi piace vedere solamente video assemblaggio e video montaggio PC e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Elytra Technology